con queste impostazioni lancio single vengono tracciati i diagrammi di modulo e fase questo video è sponsorizzato da jlc pcb un'azienda specializzata nella produzione di circuiti stampati che con tariffe bassissime permette di ricevere pcb di ottima qualità in pochi giorni potrete ordinare al costo di soli due dollari 10 prototipi con un tempo di produzione di soli due giorni ciao a tutti e benvenuti in laboratorio come sempre prima di iniziare un saluto a 5 nuovi sostenitori del programma patreon grazie per il vostro supporto veramente tanto apprezzato quindi un ringraziamento a roberto v alberto p ettore f peppe a luigi d p grazie mille veniamo al video di questa sera visto che ricevo spesso delle domande relativamente all'acquisto di strumentazione nuova a basso costo come generatore di funzione oscilloscopi alimentatori e magari all'inizio uno non è che è proprio così propenso a acquistare tutto subito questa sera mi propongo due oggetti di analog device che fanno proprio a caso nostro perché permettono con poco di poter fare molte cose ricevo infatti dal mio field application engineer preferito di arlo francesco di andreis che saluto e ringrazio questi due oggetti adalm 2000 e adalp 2000 il primo è l'acronimo di active learning module ed è uno strumento completo che si appoggia a un pc e fornisce un oscilloscopio completo che può lavorare fino a diverse decine di megahertz ingressi digitali ingressi analogici quindi adc e dac tutto integrato il secondo acronimo invece sta per active learning program ed è un kit completo di tutti i componenti necessari per sperimentare diverse configurazioni chiamiamole avanzate infatti troviamo molti amplificatori operazionali transistor sensori e moduli come tipico per i prodotti analog device esiste una documentazione molto vasta e fatta molto bene con esempi da riprodurre per capire il funzionamento dei circuiti io ne ho selezionato uno in particolare che secondo me è molto utile per la caratterizzazione di amplificatori audio ad esempio infatti andremo a vedere come si tracciano i diagrammi di bode di un sistema a retroazione negativa realizzato semplicemente con un amplificatore operazionale quindi osserveremo i diagrammi di modulo e fase di questo semplice sistema e quindi buona visione ecco qui i nostri oggetti sul tavolo cominceremo da prima con l'adam 2000 quindi lo metteremo in pista e poi utilizzeremo i componenti di questo kit per realizzare il nostro piccolo esperimento pensato per gli studenti ma molto utile anche agli appassionati agli obbisti questo è il modulo adam 2000 che viene fornito con cavetti di collegamento al connettore cavetto usb 2.0 per la connessione al pc e qualche pin header di utilità questo oggetto è molto compatto troviamo due porte usb per alimentazione connessione col pc da questa parte il connettore che ci permette di accedere all'esterno la cosa molto interessante è che sono contenuti un adc e un a 12 bit che lavorano fino a 100 mega sample per secondo e quindi ci permettono di avere degli strumenti molto efficienti e anche potenti adalm 2000 rende disponibili diversi strumenti come un voltmetro un oscilloscopio digitale con banda fino a 30 megahertz un analizzatore di spettro un generatore di funzioni arbitrario un alimentatore variabile un analizzatore di rete a due porte un analizzatore di stati logici digitali con decodifica anche del bus un generatore di pattern digitali e anche degli input e output digitali per collegarci al mondo esterno abbiamo due sistemi di connettori un analogico e uno digitale quello analogico si compone di 10 conduttori la prima coppia è il canale 1 dello oscilloscopio la seconda coppia il canale 2 la terza coppia in nero sono due pin di ground quindi riferimento di massa poi abbiamo il rosso più 5 volt il bianco meno 5 volt e infine i due gialli sono le due uscite analogiche indipendenti single ended la sezione digitale a 20 pin i primi due sono due pin di ground questi qua neri poi abbiamo i grigi e il grigi bianco che sono il trigger in trigger out utilizzati nell'analizzatore di stati logici e nell'oscilloscopio e poi abbiamo tutti i pin digitali che sono i restanti 16 l'installazione del software è molto semplice dalla pagina principale adalm 2000 di analog device scegliamo sotto user guide la pagina di adalm 2000 overview qui abbiamo nell'introduction questo link adalm 2000 users and students dove possiamo trovare i driver per l'oggetto windows linux e mac nel mio caso o windows quindi selezioniamo questo file che ci rimanda a questa pagina e scegliamo questo pluto sdr m2k usb driver punto exer è un eseguibile file unico e lo scarichiamo sempre dalla pagina principale poi dobbiamo scaricare il software che si chiama scopi anche in questo caso windows è un altro eseguibile che scarichiamo esistono diverse versioni noi andiamo a scegliere quella non di debug con la normale che attualmente in versione 1.3.0 quindi unico eseguibile lo scarichiamo lanciamo l'eseguibile facendo due clic sull'icona scopi ecco qua il nostro strumento due clic ancora qua abbiamo indicate tutte le caratteristiche rilevate via usb quindi versione del firmware 0.25 questa è la versione di scopi 1.3.0 clicchiamo su connect collegato adesso sta facendo la procedura di calibrazione infatti gli strumenti sono tutti disabilitati ops c'è stato un crash un crash del software eseguiamo l'upgrade del firmware all'ultima versione disponibile che dovrebbe essere la 0.28 eccola qua il file che ci serve è lo zip che contiene tutti i file che verranno poi spacchettati e installati all'interno del dispositivo aggiornamento del firmware molto semplice si tratta di copiare il file .frm all'interno del dispositivo che viene visualizzato questo m2k copiarlo all'interno e poi fare un eject del dispositivo facendo questo il led comincerà a blinkare e significa che la programmazione è in corso ci vuole un po di tempo la procedura di aggiornamento dura circa quattro minuti è importante avere pazienza non scollegare niente specialmente il cavo usb perché sta programmando e quindi si potrebbero creare dei guai quindi attendete fin tanto che il led continua a lampeggiare durante l'aggiornamento del firmware il led blinca velocemente bisogna attendere finché non smette di lampeggiare dopo qualche indagine ho scoperto che il problema era legato alla gestione delle porte usb dell'altro pc quindi ho reinstallato l'ambiente su quest'altro portatile ora se faccio connect lo strumento si collega e lancia la calibrazione e ora siamo connessi diamo uno sguardo veloce a questo software scopi perdonate l'audio un po che vernicolo mi trovo sull'altro pc cominciamo con uno oscilloscopio qui abbiamo la rappresentazione delle due tracce con tutti i controlli base tempi e sensibilità verticale analizzatore di spettro network analyzer che poi quello che utilizzeremo vedete che già è preimpostato il diagramma di bode signal generator la possibilità di scegliere diversi tipi di forme d'onda e regolare tutti i parametri analizzatore di stati logici patter generator e poi la gestione degli io digitali voltmetro ed infine alimentatore nel campo dell'amplificazione la retroazione negativa è un qualcosa che aiuta moltissimo infatti se rappresentiamo con a il guadagno ad anello aperto di un amplificatore la retroazione negativa consiste in un meccanismo per cui si preleva parte dell'uscita e la si riporta in ingresso questa invenzione che risale al 1928 ci permette di mettere sotto controllo la nostra catena di amplificazione infatti avremo caratteristiche di maggior linearità piattezza nella risposta e soprattutto avremo un comportamento predicibile nel senso che tutta l'amplificazione non sarà più dipendente dai parametri di catena aperta ma dipenderà fortemente dalla rete di retroazione che andremo a dimensionare in maniera opportuna e faremo sicuramente in modo che ci sia anche una caratteristica di stabilità per evitare che la catena entri in oscillazione sottrarre una parte utile del segnale di uscita e riportare in ingresso evidentemente abbassa il guadagno ad anello aperto ma offre le caratteristiche molto importanti che abbiamo appena detto vediamo l'esperimento di questa sera qua abbiamo rappresentato un generico sistema in retroazione negativa dove abbiamo un ingresso un'uscita le funzioni di trasferimento secondo le trasformate di laplace chiamate gds e hds ci governano il sistema avremo infatti che il sistema introduce questa retroazione negativa per far sì che il segnale errore vada a zero e quindi riusciremo a controllare la nostra tensione di uscita rispetto alla tensione di ingresso come prima operazione esprimiamo proprio il rapporto tra l'uscita e l'ingresso per vedere appunto come variano a seconda dei blocchi che abbiamo definito osservando lo schema possiamo dire che la vout è uguale a gds per il segnale di errore il segnale di errore a sua volta è definito come la differenza fra l'ingresso e l'uscita per hds e quindi andando a sostituire possiamo scrivere che vout è uguale a gds per vin posso portare di là questo termine vout e scrivere che vout di s per 1 più hg è uguale a g per vin quindi vout su vin è dato da questo rapporto g diviso 1 più gh questa è la funzione di trasferimento ad anello chiuso il termine g per h è chiamato guadagno di anello lo definiamo tds e su questo possiamo applicare il criterio di stabilità secondo nyquist quindi andremo a vedere il margine di fase e il margine di guadagno vogliamo quindi misurare questa funzione tds inserirci cioè nel loop dobbiamo trovare quindi un punto in cui andremo a inserirci con una resistenza di basso valore tale da non perturbare il punto di lavoro dc del nostro sistema e andremo a iniettare dei segnali e a rileggerli proprio per caratterizzare questa funzione questo metodo chiamato di voltage injection quindi prevede che lo strumento adalm con il generatore tramite un trasformatore di accoppiamento va a inserire uno stimolo fra i punti a e b dove abbiamo messo un resistore di basso valore e contemporaneamente va a rileggerne il valore con la funzione analizzatore di rete in questa maniera riusciremo a caratterizzare la nostra funzione senza perturbare troppo il funzionamento del sistema per essere sicuri quindi di misurare realmente il guadagno di anello abbiamo due condizioni da soddisfare la prima è che osservando la impedenza di ingresso da questa parte della funzione hds questa deve essere molto maggiore dell'impedenza di uscita del blocco g quindi possiamo scrivere z in h vista da qui molto maggiore di z out g questa condizione di solito è rispettata se usiamo come faremo dopo un amplificatore operazionale infatti la uscita dell'amplificatore operazionale di solito ha bassa impedenza molto bassa rispetto all'impedenza di ingresso della rete di feedback la seconda condizione per essere sicuri di misurare bene le cose è che il guadagno di anello deve essere molto maggiore del rapporto fra z out e z in che abbiamo definito prima questa è già una condizione un po più particolare che andremo a verificare dopo ho rappresentato lo schema che utilizzeremo per la misura del guadagno di anello utilizzeremo tre amplificatori operazionali diversi in configurazione invertente sappiamo che in questa configurazione il guadagno è dato dal rapporto delle due resistenze quella di feedback rispetto a quella di ingresso in blu sono rappresentati invece i componenti e le connessioni a adalm utilizzeremo una resistenza r3 del valore di 10 ohm per l'inserzione dello stimolo avremo questo trasformatore e dall'altra parte una resistenza sempre di 10 ohm per fare matching con questa poi avremo questa resistenza da 100 ohm che ci servirà per creare il partitore resistivo in modo che il nostro generatore di forme d'onda arbitrario pilotato da adalm veda questo partitore questo ha un duplice scopo innanzitutto non carichiamo con troppa corrente il nostro generatore ed inoltre avremo la possibilità di lavorare con segnali di piccolo livello con questi quadratini sono indicate le connessioni al sistema adalm quindi vedete il canale 1 avrà il positivo su questo punto il negativo a massa il canale 2 collegato a questo punto di misura è in negativo a massa ground e uscita del generatore di forme d'onda arbitrario fissiamo la resistenza r1 a 1 kg r2 invece potremmo variarla 1 kg 10 kg per osservare come varia il guadagno sarà interessante vedere in frequenza come si comportano questi diversi operazionali ed ecco il secondo protagonista della serata questo kit adalp 2000 che contiene tutte le parti analogiche che ci serviranno per eseguire le diverse esercitazioni il kit è ben assortito abbiamo tutta una serie di componenti dell'analog device in particolare operazionali comparatori poi abbiamo transistor discreti utilizzeremo la breadboard su cui montare il nostro circuito di test ho collegato i componenti del nostro circuitino ho lasciato questi componenti piazzati tanto non li utilizziamo sono parcheggiati lì qui abbiamo l'op 97 il nostro operazionale le resistenze qua abbiamo il trasformatore che si compone di sei avvolgimenti di cui tre sono in serie per formare il primario tre sono in serie per formare il secondario ecco perché abbiamo tutti questi fili ho collegato le uscite gli ingressi di adalm che mi servono sempre utilizzando i cavetti di collegamento alla nostra breadboard dal software nella sezione power supply impostiamo i valori delle alimentazioni quindi la positiva la portiamo a 5 volt la negativa la portiamo a meno 5 volt e poi facciamo enable in modo che così vedete questa la tensione impostata questa è quella misurata stiamo dando 5.01 e meno 4.94 misurati impostiamo ora le funzioni del network analyzer del diagramma di bode cominciamo con definire la frequenza di funzionamento da 10 kilohertz a 5 megahertz definiamo i punti per decade adesso ne metto 20 per fare una spazzolata veloce poi eventualmente se vogliamo dei grafici più precisi possiamo aumentarli e andiamo a definire le ampiezze delle finestre per il modulo quindi vado da meno 40 db a più 40 db e per la fase da meno 180 gradi a più 180 gradi con queste impostazioni con il lancio single vengono tracciati i diagrammi di modulo e fase questi diagrammi ci sono molto utili ora per definire qual è la stabilità di questo sistema infatti definiamo il margine di guadagno e il margine di fase definiamo il margine di guadagno il modulo espresso in db quindi su questa curva alla frequenza per la quale la fase vale meno 180 gradi in questo caso vedete che non ci arrivo mai quindi posso supporre comunque che sia un valore positivo perché la curva poi qua probabilmente risale e quando questo margine di guadagno è positivo potenzialmente l'amplificatore è instabile vediamo ora il margine di fase il margine di fase è definito come 180 gradi meno la fase che si ha alla frequenza in cui il modulo vale 0 db quindi adesso utilizzo i cursori e posiziono i cursori in modo da trovare 0 db qua sul modulo questo punto qui in questo esatto punto la fase vale 76.15 gradi quindi il margine di fase è 180 gradi meno 76.15 quindi grosso modo poco più di 100 gradi questo sistema è stabile perché il margine di fase è abbondantemente sopra i 45 gradi che di solito è un parametro che si tiene a riferimento per la stabilità questo primo test realizzato con op 97 resistenza r2 r1 uguale 1k abbiamo avuto il modulo 0 db alla frequenza di 306 kilohertz questo ci ha portato a una fase a questa frequenza di 76.15 gradi e quindi il margine di fase è 103.8 gradi ho sostituito la resistenza r2 da 1k a 10k quindi il guadagno del nostro op amp è passato a 10 ho rilanciato il diagramma di bode e questa volta lo 0 db sul guadagno di anello lo tengo per una frequenza di 33 kilohertz quindi decisamente più bassa e a questa frequenza abbiamo che la fase vale 91.7 gradi e quindi il margine di fase rispetto a prima è calato perché è di 88 gradi questa volta ho sostituito l'op 97 con op 27 che è un amplificatore operazionale con banda decisamente più ampia andiamo a vedere cosa accade sulla stabilità come era prevedibile il punto in cui il guadagno di anello vale 0 db è a una frequenza decisamente superiore qua siamo a 1.1 megahertz quindi oltre tre volte quello che abbiamo visto prima e vediamo subito che siamo in zona di instabilità infatti se guardate la fase qua abbiamo il meno 180 gradi praticamente il margine di fase è ridotto a pochi gradi significa condizione di probabile instabilità oscillazione ho sostituito nuovamente lo pump questa volta op 37 in questo caso abbiamo un guadagno d'anello decisamente più alto la frequenza di transizione a 0 db è praticamente uguale a quella di prima 1.19 mega e anche il margine di fase vedete è molto risicato quindi siamo molto vicini al punto meno 180 gradi dove abbiamo instabilità possiamo rappresentare questi diagrammi anche in forma di nyquist quindi diagramma complesso e anche nichols bene e con questo termina il video su adalm 2000 e il kit adalp 2000 secondo me due oggetti molto utili per la sperimentazione in particolare adalm 2000 è molto utile perché contiene molti strumenti con caratteristiche decisamente interessanti abbiamo infatti visto che la banda arriva fino a 30 megahertz magari in un prossimo video potremo utilizzarlo per caratterizzare la risposta in frequenza di un amplificatore audio e con questo finisce il video io vi ringrazio per averlo visto come sempre se vi è stato utile o vi è piaciuto un bel pollice in su io vi saluto ciao e alla prossima ciao 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 ciao